vorresti essere un gatto e stiracchiarti tutte le volte che vuoi ma non sai come farlo prova con lo stretching biodinamico di cristiana raggi tutte le settimane segui le lezioni streaming online ciao ben arrivati al nostro appuntamento classico dedicato allo stretching biodinamico al nostro appuntamento classico settimanale oggi volevo rispondere a diverse domande che mi sono arrivate in relazione alla diciamo ai sintomi del panico comunque della paura della di questi di queste emozioni forti che vanno verso comunque uno stato agitato dove sicuramente il cuore batte molto più velocemente e siamo presi da una sensazione di no c'è qualche cosa che può minare la mia sicurezza chiaro che in questo periodo forse questa cosa qui è ancora più normale che ci sia io vi suggerirò oggi una posizione di stretching biodinamico del meridiano della della vescica e di rene cioè del movimento dell'acqua il movimento dell'acqua nella medicina cinese sono quelli che in qualche modo gestiscono proprio la sensazione diciamo che l'emozione collegata a questi due meridiani proprio quella della paura o comunque dell'ansia della no del terrore e quindi le posizioni corrispondenti in linea di massima sono sempre in chiusura in chiusura in questo senso qui quindi io mi chiudo su me stessa anche perché di solito questo movimento qui sia durante l'inverno che proprio il momento dell'anno in cui si tende a chiudersi di più no in casa perché fuori fa freddo e quindi siamo un po più chiusi per poi dopo riuscire e rincontrare tutti quanti anche in una socialità più ampia durante la primavera e l'estate per cui le posizioni sull'inchiusura oggi ne vedremo una estremamente in chiusura l'allenamento è proprio quello di riuscire a portare la respirazione il più possibile verso la pancia verso la zona renale adesso ti farò vedere dove e anche verso la zona genitale perché la posizione essendo chiusa porta il corpo sembra a non avere spazio per la respirazione per cui è un po come se tutto dovesse andare verso l'alto te lo spiego entrando direttamente nella posizione quindi la meridiano di vescica è lungo tutta la colonna vertebrale parte da qui passa dietro nella nella testa va giù lungo la colonna vertebrale scende lungo le gambe arriva giù fino a qua nei piedi e quindi diciamo finisce nei piedi attraversa tutto il corpo nella zona posteriore per cui noi tutto quello che è il piegamento in avanti è chiaramente un allungamento di tutta la fascia posteriore la posizione che andremo a fare oggi è questa lo dico per le donne si può tenere il seno un po sopra e quindi appoggiarci il sedere è appoggiato esattamente il sedere appoggiato esattamente sulle sui talloni ed è questa cosa qua per cui io appoggio la testa e rimango in questa posizione la cosa importante qui è che vedi che la respirazione è proprio pressata la mia pancia è pressata è assolutamente addosso alle mie cosce per cui io non ho spazio per espandere la pancia se devo fare un respiro di pancia a maggior ragione io devo portare devo prendere spazio devo aprire i canali invece qua e quindi guarda che questa parte qui da me si alza vedi e quindi anche tutto nella zona genitale e anale quindi espando il più possibile questa zona il fatto di allenarmi fisicamente a prendere spazio attraverso la respirazione allena il mio diaframma in primis e quindi mi dà la possibilità di potenziare il mio diaframma e di approfondire ancora di più l'inspiro e l'espiro e in più diventa più forte la mia capacità di reagire anche fisicamente ai momenti di ansia ai momenti di grande paura che posso vivere in una quotidianità perché a quel punto mi basterà attivare le stesse aree del corpo questo è un discorso l'altro discorso per fare al meglio questo esercizio è quello di avere una visione aperta perché sono chiusa e quindi di conseguenza il mio pensiero può chiudersi insieme a me e invece no io anche se sono giù che sono completamente piegata su di me dentro di me devo sempre vedere quel panorama che ho già detto diverse altre volte in queste dirette insomma in questi video che faccio sullo stretching io devo immaginarmi sempre un panorama bello, grande, che mi piace, il mare, la montagna, quello che vuoi vedi questo grandissimo panorama davanti ai tuoi occhi che sono chiusi ovviamente dite che sei piegato, piegato su di te però non importa questo l'importante è dove è la tua mente, la tua mente deve essere in uno spazio aperto quindi io mi metto in questa posizione, sono a sedere sui talloni e a sedere sui talloni rimango poi inchino mi piego con la schiena in avanti, appoggio la testa, la fronte giù e appoggio le mani dietro e così rimango per un po' di respiri respiro di pancia respiro tutto qua gofio bene quando mi alzerò metterò le mani in questa posizione srotolerò la colonna vertebrale, vertebra dopo vertebra e arriverò su allora io adesso sono stata veramente pochissimi respiri in questa posizione veramente pochi noi possiamo stare in questa posizione anche per dei minuti ma anche per 10-15 minuti allora io sono un'attrice appunto non so se questo è il primo video che vedi o se ne hai già visti degli altri sono un'attrice per cui mi è capitato delle volte prima di andare in scena di avere quell'ansia tipica da palco, per cui io mi ricordo che in quel periodo lì cominciai a fare questo esercizio prima di andare in scena alla fine ho smesso di farlo perché mi rilassava talmente tanto che quando andavo in scena ero troppo rilassata e quindi questa cosa non andava bene e invece no, non dovevo essere così rilassata però per farti capire che anche di fronte a una situazione del genere questo esercizio tenuto dove io prendo bene spazio della respirazione dove lascia andare completamente tutta quanta la schiena lo stretching abbiamo detto è il lasciarsi andare la forza di gravità quindi io lascio andare tutto sto proprio lì bella piegata respiro qua con i reni questo esercizio qui riesce a tranquillizzare veramente tanto chiaro ti può portare addirittura verso uno stato quasi che precede il sonno per cui questo è il mio suggerimento per te tutte le volte che senti che durante la giornata hai voglia di rilassarti un po' o diciamo che se lo fai proprio in uno stato di paura se sei spaventato o spaventato in quel momento diventa ancora più potente magari ci metti un po' di più però comunque ha la sua efficacia per cui ti suggerisco di farlo più volte che puoi va bene? basta per oggi è tutto ci vediamo sabato prossimo e ricordati a un certo punto qualcosa cambia ciao